Gnocchi di patate Dosi 4 persone Ingredienti Patate a pasta bianca 1 kg Farina 00-300 g Uovo 1 Sale quanto basta Lavate le patate, lessatele in acqua salata per circa 30 minuti, poi sbucciatele e schiacciatele Disponete la farina a fontana su una spianatoia, unite la purea di patate e un pizzico di sale, impastate fino ad avere un impasto liscio Aggiungete l'uovo e continuate a lavorare l'impasto finché non sarà morbido ma non appiccicoso Formate dei cilindri con l'impasto, tagliateli a tocchetti di circa 1,5 cm e create la rigatura se desiderato Cuocete gli gnocchi in acqua bollente salata finché non salgono a galla, quindi scolateli Condite gli gnocchi con il sugo che preferite, come ragù, pesto o pomodorini e basilico Grazie . . Grazie.